Ciao a tutti, ho una domanda per voi Quando noi giapponesi pensiamo all'Italia, quale immagine ci viene in mente? La maggior parte delle persone avrà un'impressione positiva Naturalmente ogni paese ha i suoi lati positivi e negativi Chi ha vissuto in Italia probabilmente ha visto anche gli aspetti negativi Tuttavia la maggioranza dei giapponesi quando sente parlare dell'Italia pensa, wow è fantastica, o voglio visitarla, ma perché? Oggi vorrei capire insieme a voi le ragioni per cui i giapponesi amano l'Italia Ovviamente queste sono opinioni personali e potrebbero non essere definitive Quindi vi prego di tenerne conto L'Italia è piena di molteplici e affascinanti aspetti come La cucina, l'arte, la storia e lo studio di vita Quali pensate possono essere le ragioni? Se avete altre idee condividetele nei commenti La cucina Innanzitutto la cucina italiana Pizza, pasta, gelato e tanti altri piatti che sono affascinanti anche per i giapponesi La freschezza degli ingredienti è il sapore semplice ma profondo Sono caratteristiche distintive Rendendo la cucina italiana estremamente popolare tra tutte le fasce d'età E sorprendente notare che rispetto ad altre cucine Quella italiana è una delle poche cucine straniere apprezzate da bambini e adulti giapponesi di tutte le età Quando sono stato in Italia ho notato molte somiglianze con la cucina giapponese Ad esempio il piatto di vongole in bianco simile al nostro vongole al sake O la cotonetta di maiale che ricorda il tonkatsu Inoltre mentre gli italiani usano il vino bianco noi in Giappone usiamo il sake E penso che il condimento sia simile ai gusti che i giapponesi amano Anche i miei genitori adorano la cucina italiana E i ristoranti italiani sono molto popolari per cene romantiche o occasioni speciali Sono convinto che la cucina italiana sia sicuramente tra le prime tori cucine straniere preferite dai giapponesi Arte e storia Le eccessive sono sicuramente l'arte e la storia straordinaria dell'Italia In particolare la sua espressione artistica è davvero impressionante Io non ho alcuna predisposizione artistica Quindi questo è particolarmente evidente per me Ciò che amo davvero è l'uso dei colori nelle città e nei ristoranti La creatività e la fantasia dei maestri artigiani E le idee innovative che non sono vincolate dalle convenzioni In particolare penso che l'uso dei colori sia eccezionalmente abile Per me è il migliore al mondo Amo i colori delle automobili, degli oggetti, dei vestiti, delle case, tutto E ciò che ammiro negli italiani è che sapete come utilizzare questi colori Cosa significa? Significa che fin da piccoli avete visto molte combinazioni di colori meravigliose per strada Quindi naturalmente sapete quale colore si abbina a quale È davvero qualcosa di cui sono invidioso Per questo motivo la gente in tutto il mondo vede gli italiani come persone alla moda Non nel senso di indossare bei vestiti Ma nel sapere come combinare e indossare i vestiti Inoltre per quanto riguarda la storia L'Italia è la culla del Rinascimento Con una ricca storia e patrimonio culturale Opera d'arte e sculture di maestri come Leonardo da Vinci e Michelangelo Oltre a musei famosi in tutto il mondo offrono esperienze completamente diverse rispetto al Giappone Rendendola estremamente popolare In Giappone nelle scuole comuni non si studiano materie come la religione Quindi chi studia storia della religione a livello universitario o autonomamente Trova l'Italia un paese ricco di storia e affascinante Inoltre durante la seconda guerra mondiale L'Italia fece parte dell'asse insieme a Germania e Giappone L'Italia un'opinione passata su questo periodo Non è vero Ho sentito queste opinioni anche da altre persone. Credo che sia particolarmente comune tra le persone anziane. Ricchezza naturale L'Italia vanta una varietà di paesaggi naturali, dalle Alpi e dagli Appennini al lago di Como e alla costiera amalfitana, offrendo molte attività all'aperto e scenari splendidi che incantano i viaggiatori giapponesi. Come in Giappone, la presenza delle quattro stagioni permette di vedere la stessa città con volti diversi durante l'anno, uno dei motivi della sua popolarità. L'estate in Italia naturalmente varia a seconda della località, ma in generale l'umidità è inferiore rispetto al Giappone, rendendo il clima più piacevole e attraente secondo me. Preferisco trascorrere l'estate rilassandomi sulle spiagge italiane piuttosto che esplorando le città giapponesi. Le onde sono più piccole e in alcuni giorni quasi assenti, permettendo di nuotare con i bambini piccoli e godere di momenti di relax senza stress. Certamente anche in Giappone ci sono bellissime spiagge, ma con l'aumento dei costi dei voli e degli hotel, a volte viaggiare all'interno del paese può diventare più costoso che all'estero. La natura italiana è davvero meravigliosa. Ho avuto esperienze preziose camminando nei boschi con la famiglia di mia moglie in primavera e autunno, incontrando animali selvatici e godendo di ambienti ricchi di natura simili a quelli del Giappone, rendendo l'Italia attraente per i giapponesi. La gentilezza degli italiani Infine, penso che l'immagine che la maggior parte dei giapponesi ha degli italiani sia la loro gentilezza. Ho vissuto personalmente in Italia e posso confermare questa impressione. Ovviamente non tutti gli italiani sono gentili, ma molti lo sono. Quello che apprezzo particolarmente negli italiani è il loro senso dell'umorismo. Gli italiani sono amanti dei giochi di parole e delle battute, proprio come ad Osaga, dove la risata è parte integrante della vita quotidiana. Per le persone del Kansai, gli italiani sembrano avere una lunghezza d'onda simile, rendendoli più amichevoli. Sono rimasto colpito dal fatto che, se gli italiani e i giapponesi rispettano reciprocamente i loro preci, possono costruire relazioni molto positive. In effetti, molti degli italiani che partecipano ai miei tour rispettano i giapponesi ed il Giappone, dimostrando un alto livello di cortesia e rispetto. Ok, ho esplorato alcune delle ragioni per cui i giapponesi amano l'Italia, ma perché allora non ci sono ancora molti turisti giapponesi in Italia? Io penso che le possibili cause potrebbero essere... Numero 1, che è la più significativa al momento secondo me, è... L'euro è troppo caro. Quando vivevo in Italia nel 2016, un euro valeva circa 120 yen. Ora è salito a circa 160 yen. E a luglio era salito a circa 170 yen. Credo che i prezzi in Italia siano aumentati in generale, il che ha portato a un aumento dei costi di viaggio, facendo sì che molte persone decidano di rinunciare a viaggi in Italia rispetto al passato. E un'altra causa che considero importante è... È un viaggio un po' difficile per la maggior parte dei giapponesi. Come ho detto prima, i costi dei viaggi nazionali sono aumentati, quindi molti vorrebbero viaggiare in Italia se i costi fossero simili. Tuttavia, per coloro che parlano solo giapponese, viaggiare in Italia può essere una sfida. Se si viaggia in tour organizzati o con guide va bene, ma viaggiare individualmente può presentare problemi, come rimborsi in caso di grandi ritardi dei torreni, organizzazioni di nuovi torreni o contattare gli hotel, eccetera. Per chi parla inglese o italiano non è difficile, ma molti giapponesi parlano solo giapponese, rendendo il viaggio molto complicato per loro. Questo potrebbe essere il motivo per cui molte persone preferiscono viaggiare in tour organizzati. Se incontri un giapponese in difficoltà nella tua città, per favore parlaci e offrigli il tuo aiuto. Ok, oggi ho esplorato le ragioni per cui i giapponesi amano l'Italia. Naturalmente ci sono molte altre ragioni. Chiedete anche alle persone giapponesi intorno a voi e condividete i vostri pensieri nei commenti. Continuerò a trasmettere varie informazioni e a parlarvi della cultura e tradizioni giapponesi, per fungere da ponte tra i due paesi. Quindi iscrivetevi al canale e sportatemi. Grazie mille per aver guardato il video e ci vediamo al prossimo video. HONAAA! HONAAA! HONAAA!